salve eccoci qua alla seconda parte di questa analisi abbastanza sommaria ma spero utile del libro di eduard de bono sei cappelli per pensare analizzato dal punto di vista dell'utilizzazione che ne possiamo fare nella vita di relazione soprattutto lavorativa soprattutto nello studio e nell'affrontare le problematiche nel mio caso di interesse anche di carattere giuridico chi ha seguito la prima parte ha visto l'introduzione su chi è l'autore qual è l'approccio lo ripercorriamo molto velocemente per arrivare al secondo cappello l'altra volta abbiamo visto il cappello bianco il cappello della razionalità adesso vediamo l'opposto l'antitetico il cappello rosso partiamo però appunto dal libro partiamo dal concetto di pensiero laterale un neologismo ideato dall'autore fra l'altro un autore che si è occupato di medicina di psicologia che ha scritto anche tanti altri testi oltre 70 questi sono i miei consigli per gli acquisti da parte vostra che uscendo dal concetto di logica tradizionale per cui da a si arriva a b attraverso un'unica strada per cui la strada più breve quella del ragionamento logico si passa attraverso diciamo l'utilizzo non alternativo ma affiancando al pensiero verticale tradizionale quello che ci hanno insegnato a scuola quello che da millenni caratterizza il pensiero umano anche un altro approccio quindi alla logica classica quella dell'affrontare da sei punti di vista abbiamo visto il primo adesso vedremo il secondo ogni problema il cappello bianco rappresenta la razionalità i fatti la descrittività il cappello rosso le emozioni quello nero la negatività quello giallo la positività il verde la creatività e il cappello azzurro la razionalità e l'organizzazione i cappelli servono perché ogni punto di vista è indispensabile poi ognuno si fa un'idea dai punti di vista che analizza dividendo razionalità ed emotività in modo tale da dare spazio all'emotività e lo vedremo attraverso un meccanismo che è molto simile alla recitazione se mi metto in una certa posa io posso rappresentare meglio diciamo la le emozioni rappresentare meglio la mia impostazione sapendo che sto recitando una parte che nel momento in cui metto il cappello io sto agendo in un certo ruolo allora vediamo quali sono gli elementi fondamentali del cappello rosso come detto antitetico al cappello bianco il cappello bianco è fatto di raccolta di dati di documentazione l'assenza di giudizi personali di valutazioni personali il cappello rosso è l'opposto emozioni entusiasmo irritazione simpatia antipatia quelli che sono i sentimenti rispetto a una problematica perché i cappelli si analizzano diciamo è utile analizzarli sempre a coppie il bianco l'abbiamo descritto i fatti controllati accertati anche quelli creduti ma comunque attendibili non necessariamente sono fatti accertati ma che sono verosimili o sono impossibile quindi comunque per me è una verità negativa lo sforzo di ascoltare gli altri nell'enunciazione dei fatti ma il bianco rappresenta la neutralità cioè l'assenza di valutazioni vediamo allora invece che cosa rappresenta il cappello rosso in questa analisi ricordiamoci quando decido di analizzare un tema una discussione una problematica un argomento col cappello rosso devo entrare nel ruolo devo recitare questa parte ricordandovi appunto alcune regole che io ho riassunto in un decalogo e che nel libro trovate esplicitate intanto devo mettere in evidenza che sto parlando di una mia sensazione del problema quindi sto analizzando il problema dal punto di vista emotivo non c'è niente di razionale o alla base non c'è una valutazione razionale è secondo me questo affare non deve essere concluso ho la sensazione che l'altra parte ci voglia fregare non ho elementi certi non ho alcun elemento quindi sono le emozioni i sentimenti tutto ciò che non è razionale che viene in evidenza ed è bene che venga in evidenza non perché sia la risposta al problema ma perché è un'altra sfaccettatura da analizzare del problema rendere visibili le sensazioni le emozioni che nel nostro modo di pensare tradizionale occidentale è concepito come negativo essere motivo è essere irrascibile essere diciamo illogico invece rappresenta un possibile strada per arrivare alle soluzioni e non devono essere accampate scuse a questa forma di pensiero quando si ragiona si pensa con il cappello rosso non ci si deve preoccupare delle cose che si dicono non si devono accampare scuse al fatto che si ragiona in termini emotivi lo si deve esplicitare deve essere chiaro che sto mettendo il cappello rosso figurativamente o abbiamo detto l'altra volta anche fisicamente non solo devo saper apprezzare anche le sensazioni degli altri saperle riconoscere magari invitandoli a mettere il cappello rosso a distinguere quando mi stai fornendo delle informazioni da quando mi stai fornendo delle sensazioni se riesco a tenere distinti questi due ambiti e analizzarli parallelamente senza mescolarli perché il nostro modo di pensare apparentemente razionale spesso non è altro che la giustificazione razionale di sensazioni che abbiamo ecco perché l'importanza di distinguerli perché è molto più razionale distinguerli che non fingere di tenere a bada le nostre emozioni e le nostre sensazioni sensazioni che si devono riconoscere anche nel prossimo negli altri quando le esplicitano come detto non solo non dobbiamo giustificare le nostre emozioni quindi non dobbiamo giustificare il perché ritengo che quella determina a contrarre non sia il caso di sottoscrivere non è questo il momento per stipulare il contratto non è questo il momento per chiedere una variazione di bilancio non lo so non so perché ma l'istinto mi dice che l'istinto mi dice che che è il massimo dell'irrazionalità però la percepisco questa cosa allora ne parlo ne discuto la metto in evidenza ovviamente senza dover giustificare il perché il sistema funziona il gioco abbiamo visto che mettere i cappelli è anche un gioco un gioco diciamo positivo un gioco che porta non fine a se stesso che può portare a risultati eccezionali abbiamo detto che il sistema dei cappelli è utilizzato da grandissime multinazionali grandissime imprese operatori professionali quindi non devo mai giustificare il perché sto parlando in termini di cappello rosso ne devo chiedere all'interlocutore le giustificazioni del perché ritiene che una cosa non debba essere fatta se me la sta illustrando nella forma del cappello rosso allora abbiamo emozioni la paura ho paura che se facciamo questo investimento ora potremo perdere ho paura a fare un contratto con questa parte mi sta antipatica e rischiosa ho il sospetto che ci possa fregare da un atteggiamento da uno sguardo da una cosa che mi ha detto non importa da cosa o frutto di valutazioni complesse di presentimenti ho il presentimento che e quando arrivano le emozioni le valutazioni complesse i presentimenti arrivano un po spiega l'autore come il consigliere la persona che ti dà un consiglio fa nei tuoi confronti guarda un mio amico gli è successo la stessa cosa a fine anno aveva la sensazione che la borsa stesse crollando non ha investito e nei tre anni precedenti la mia esperienza mi dice che un qualcosa di stratificato che non ha aganci diciamo immediati ma che può rendere attendibile alla luce del passato quindi si deve ragionare anche in questi termini ovviamente senza arrivare all'assurdo ok ho la sensazione che la terra stia per essere invasa dagli alieni questa non è una sensazione questo non è cappello rosso qui si arriva a ipotesi assurde quindi comunque mantenendo entro un range di razionalità le valutazioni oppure quel soggetto mi sta antipatico perché ha i capelli rossi ecco questo è l'assurdo del modo di ragionare ma fondato su emozioni valutazioni e esperienze del passato anche in una visione diciamo più poetica l'irrazionalità la non razionalità più che razionalità i sentimenti le emozioni portano anche le discussioni a essere diciamo meno strutturate quindi più con anche considerazioni colorite forbite linguaggio non tecnico aiuta in questa direzione con il cappello rosso si entra e si esce dalla discussione cioè devo essere chiaro al mio interlocutore quando io passo da un cappello all'altro adesso stiamo analizzando i vari cappelli l'autore consiglia soprattutto i primi tempi di usare fisicamente un cappello di metterselo in testa come sto facendo io in modo tale da dare evidenza al gruppo se soprattutto è un gruppo numeroso altrimenti è sufficiente dire permettetemi un secondo di parlare con il cappello rosso è un modo per far presente agli altri poi verrà naturale quando diciamo lo parleremo usando queste regole del gioco ma all'inizio può essere un pochino più complesso allora è bene entrare uscire non è detto che la discussione sia prima si parte col cappello bianco poi col cappello rosso poi con il cappello giallo eccetera eccetera si può entrare uscire a seconda dei momenti quindi emozioni presentimenti positivi e negativi ho fatto degli esempi di emozione presentimenti negativi ma possono essere anche positivi ho la sensazione che investire in questo momento sia un momento adatto non lo so qualcosa mi dice che il caso di anticipare la gara perché l'anno prossimo non ci danno il finanziamento ho l'idea che è meglio approvare gli atti perché sta per uscire una riforma legislativa ora parlando del contesto giuridico quindi discussione ma non solo discussione ecco questo modo di ragionare e l'invito che vi faccio anch'io non è da tanto che mi sono approcciata a questo a questa modalità è un invito da fare anche quando si ragiona fra se stessi diciamo quando si approccia un problema una tematica senza discutere con altri ma sapendo che in quel momento la sto analizzando in una certa dimensione senza abbandonare la dimensione logica dimensione logica il pensiero verticale rimane il pensiero principale del nostro modo di agire soprattutto chi come me si occupa soprattutto dell'ambito giuridico ed economico ma non è il solo e non è detto che sia il solo che riesce ad inquadrare una tematica da tutti i punti di vista e quindi affiancarci questo modo di ragionare da soli o con altri può essere utile come detto il cappello rosso è il cappello antitetico al cappello bianco quindi soprattutto quando si passa da un'analisi razionale o i dati del fatturato dell'impresa x dell'anno scorso o i dati di bilancio dell'anno scorso ho fatto la valutazione della performance dell'anno scorso abbiamo raggiunto gli obiettivi o sto preparando i dati del nuovo anno questo è cappello bianco ho analizzato cosa abbiamo fatto l'anno scorso ho la sensazione quest'anno che non riusciremo perché qualcosa mi dice che non ci sono i presupposti è il cappello rosso allora quando si passa dall'uno all'altro che sono i due mondi completamente diversi molto lontani di ragionare deve essere chiaro che sto facendo questo passaggio logico come detto non sempre questo avviene nell'approccio comune io vi ringrazio per questa partecipazione a questa seconda parte la prossima volta vedremo un altro cappello importantissimo importantissimo che è il cappello nero ci vediamo alla prossima arrivederci